La Pistese sta preparando concure al confronto di domenica prossima al Melani, calcio d'inizio alle 18.30 contro la Carrarese. Sarà contro gli Apuani una sfida speciale soprattutto per il tecnico Gianmarco Remondina, che nella Carrarese ha speso una parte importante della sua vita sportiva, prima come calciatore, poi come tecnico. Le due formazioni si affrontano per la 69esima volta. Gli Apuani hanno vinto in 21 occasioni, una in più degli Arancioni. In campo si saranno anche degli altri Eccese, come Giasi e l'attaccante Floriano, approdato un'estate alla Carrarese. Nel corso della settimana Remondina ha seguito particolarmente da vicino gli ultimi arrivati. Il tecnico sembra orientato a confermare per almeno 9 undicesimi il medesimo schieramento che ha pareggiato contro il Gianna Erminio. Tra le novità, la più probabile è il rientro a tempo pieno di Rubini, scontata le conferme di Albertoni, del brasiliano Newton e il difensore Guglielmotti. Un avvicendamento potrebbe però verificarsi al centro campo. Il tecnico danese potrebbe confermare gli stessi uomini che hanno perso ma giocato bene contro la Cremonese. La Pistoese è la ricerca della prima vittoria, la Carrarese è la conquista dei primi punti in trasferta. Si annuncia una sfida molto equilibrata.